Buongiorno, benvenuti a BF, nella sede di Albino, nel corso di Operatore del Benessere a Conciatura. Io mi presento, sono Michela Giupponi e sono la docente di questo corso. Qui ci troviamo all'interno del laboratorio di acconciatura dove i ragazzi passano la maggior parte del loro tempo. Il corso si compone di tre anni, i ragazzi svolgono materie di base e materie professionalizzanti. Nelle materie di base troviamo ad esempio italiano, matematica, inglese, mentre in quelle professionali troviamo igiene, cosmetologia, dermatologia, teoria professionale, organizzazione e sicurezza. Durante il primo anno i ragazzi incominciano a prendere dimestichezza con gli attrezzi, incominciano a svolgere lo shampoo, pieghe, bigodini piega, bigodini permanente e l'accoglienza che è molto importante per il nostro lavoro. Durante il secondo anno i ragazzi imparano il taglio, il colore, colpi di sole, tutto ciò che riguarda la colorimetria, sia pratica che teorica. Il terzo anno è un'evoluzione e impareranno principalmente tagli moda, taglio femminile e colori moda. Durante il secondo e il terzo anno i ragazzi svolgeranno uno stage nelle aziende del territorio. Questo stage permette di conseguire una qualifica che poi permetterà di lavorare nei saloni. C'è l'opportunità di svolgere un quarto anno dove alla termine di quest'anno potranno ottenere l'abilitazione che dà l'opportunità non solo di gestire un negozio in autonomia ma anche di aprire un'attività. Alla fine del quarto anno addirittura i ragazzi possono effettuare un quinto anno in una scuola pubblica e poi andare anche all'università. Grazie a tutti. Grazie a tutti.